Io sono contento che abbia destato clamore, sono contento che se ne parli, sono contento che ci sia una nuova movimentazione. Questa è un'iniziativa completamente a politica, a margine, è un'iniziativa di un sito in cui si richiede al Ghetti di restituire la statua e in questo sito ci sono le ragioni sia da un punto di vista culturale, sia dal punto di vista giuridico, per cui la statua debba assolutamente rientrare in Italia e quindi mi sembra che sia un'azione da porre in essere in modo più assoluto e quindi ho aderito molto favorevolmente a questo. Non ha niente a che vedere con tutto quello che riguarda l'attribuzione della statua ad una città e speriamo che sia la città di Fano. Questo colpisce altre cose, una moral sceso nei confronti del Ghetti Museum e spero che la maggior parte delle persone, tutte quelle che vengono a contatto con questo sito, che entrano in contatto con questo sito, che abbiano notizie di questo sito, possano sottoscrivere questa sottoscrizione per far rientrare la statua in Italia e speriamo poi che la statua da Fano. Lei da Bonfanese ha sempre oltre che seguito professionalmente tutto l'Iter, che conosce molto bene, anche un po' emotivamente questa vicenda, quindi lei vuole scuotere un po' le coscienze? Non si tratta di scuotere le coscienze, si tratta di mettersi in moto per far sì che la città possa essere pronta il giorno in cui ritornerà la statua, perché la statua ritornerà in Italia, di questo ne abbiamo la certezza, di essere pronta e quindi di attivarsi maggiormente, perché questo comitato era stato creato, aveva prodotto delle idee, aveva prodotto delle... poi si è arenato in vista delle elezioni e ancora non è ripartito. Io con Zachili che non ho nulla personalmente contro, anzi, ho visto che c'è stata questa polemica e non è assolutamente alcuna polemica e a mio avviso può essere preso come pretesto per portare avanti e spingere con maggior forza e maggior vigore tutto quello che si può fare per attribuire la statua alla città, cosa a cui tengo tantissimo da cittadino fanese. Il primo passo comunque è chiedere al Ghetti che si ridi alla statua. Certamente, perché se la statua non dovesse tornare in Italia è un po' difficile poterla collocare a Fano, quindi assolutamente. Questa è un'iniziativa totalmente apolitica di questo sito, volta da un punto di vista culturale e giuridico a spiegare le motivazioni per cui la statua debba ritornare in Italia. Quindi invito tutti a collegarsi al sito lisippoinitalia.it e a sottoscrivere per il rientro dell'isippo in Italia e dandoci da fare speriamo nella città di Fano, assolutamente. Grazie. Grazie.